Dalla protesta alla proposta, ovvero aiutare i giovani ad esprimere costruttivamente il proprio pensiero e il proprio dissenso attraverso i punti di riferimento del pretext protocollo di intervento culturale sviluppato da Doris Sommer. Laboratori che si terranno presso lo spazio Mata di Pescara dal 14 al 18 marzo e aperto a 30 partecipanti con 5 sessioni formative di 3 ore ciascuna con cadenza giornaliera. Una collaborazione promossa dal comune di Pescara in collaborazione con la docente Doris Sommer dell'Università di Harvard, l'Università Gabriele D'Annunzio e il Cultural Welfare Center di Torino inserita nel piano di intervento sociale di zona. In cosa consisterà questo primo corso di formazione pretext organizzato da Social Lab Abruzzo? Questo corso sarà un corso in cui si impara una nuova tecnica che diventa uno strumento estremamente potente e interessante per coinvolgere non solo studenti in situazioni problematiche, ma più in generale gli studenti di qualsiasi ordine e grado e in realtà chiunque sia davvero interessato in un progetto nel quale si impara a fare arte insieme a partire da un testo. È un progetto nel quale la creatività si esprime a livello collettivo. Perché dovrebbe essere importante per noi questa cosa? Perché ha degli impatti estremamente efficaci sulla salute mentale. Nel contesto post-pandemico siamo tutti purtroppo affetti da tanti problemi legati a tutte le difficoltà che abbiamo avuto negli anni passati. Si è visto che con questo protocollo, anche solo nel giro di poche sessioni, anche persone con sintomi depressivi medio-gravi avevano un miglioramento statisticamente significativo di questi sintomi. Quindi questa cosa ci diventa uno strumento straordinario di salute pubblica che ovviamente non va a sostituire i metodi didattici tradizionali nelle scuole, ma diventa un'opportunità complementare a quello che già si fa per aiutare i ragazzi a ritrovare il senso di sicurezza in sé, a, come dire, anche ammirare la creatività degli altri e soprattutto a lavorare insieme. In questo momento, in questo corso, noi andiamo a formare i facilitatori. Cioè coloro che a loro volta diventeranno quelli che formeranno altri facilitatori, che metteranno in pratica questo nelle scuole e in tutti gli altri contesti. Quindi questo primo corso è rivolto, diciamo così, a dei professionisti e degli specialisti. Nei prossimi mesi, gradualmente, renderemo possibile, a partire da questa formazione, realizzare laboratori nelle scuole e in tutti gli altri contesti che sono interessati per trasformare Pescara in un vero e proprio laboratorio di interventi culturali d'alto impatto sociale. Un'importante collaborazione rappresentata dall'Università di Harward con la docente Doris Sommer. Sì, Doris Sommer è la docente che ha creato questo protocollo. Il lavoro con la professoressa Sommer in realtà va avanti da tanti anni ed è stata una grandissima soddisfazione poter portare un progetto di questo livello a Pescara.